Una storia lieto fine, quella che arriva dal San Bortolo di Vicenza, dove nei giorni scorsi un'equip di chirurgia pediatrica ha condotto un delicato intervento su una neonata di appena 5 giorni, venuta alla luce con una massa che occupava quasi il 50% della cavità addominale, tanto da comprimere l'ovaio destro, l'intestino, avendo ormai avvolto completamente il colon e l'appendice. Dopo questa diagnosi abbiamo fatto in modo di organizzare la nascita a cui da noi, nata la bambina l'abbiamo tenuta in osservazione, questa massa che occupava quasi il 50% della cavità addominale della bambina continuava a crescere, dando anche delle complicanze, quindi abbiamo deciso di operarla. La particolarità è che l'abbiamo effettuato completamente con chirurgia mini-invasiva. Il nostro centro è un centro molto riconosciuto per questo tipo di chirurgia, particolarmente nei neonati, perché non tutti i centri operano i neonati in questo modo. Procedura chirurgica condotta con le più avanzate tecniche di chirurgia mini-invasiva, attuata praticando tre micro-incisioni, che ha permesso anche un rapido recupero della piccola paziente, dimessa dopo soli due giorni. Già dopo poche ore era completamente sveglia, voleva mangiare, abbiamo dovuto precauzionalmente, visto che aveva toccato l'intestino, tenere qualche ora a digiuno, ma poi la bambina, se la vede adesso, è una bambina che non ha avuto niente, questa è per una grande soddisfazione. Centro di riferimento regionale per la chirurgia e urologia mini-invasiva pediatrica, in cui ogni anno vengono eseguiti dalla chirurgia pediatrica 1.400 interventi, di cui 500 con metodica mini-invasiva, attira pazienti non solo da fuori regione, ma anche dall'estero. Sicuramente è una testimonianza di grande eccellenza della nostra motossanità, e vuole essere anche per un racconto la testimonianza di fiducia nei confronti dei genitori. Grazie.